lessiamo voi non lo potete sentire ma sa un odore carciofo freggete ma sinceramente ho assaggiato quello marinato ma si sa ben po quando lo lessi invece sa proprio di carciofo un aroma leggero leggero di carciofo buonissimo ve lo consiglio se lo riesco a prendere con una mano sembra patate e carciofo ma è leggero proprio un aroma leggerissimo cioè è buono solo che all'inizio bisogna abituare lo stomaco se no si riempie potete fare un sacco di meteore ciao belli grazie 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 grazie